La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno, ben ritrovati alla rassegna stampa di questo sabato 16 aprile. Una rassegna stampa che apriamo subito con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola e lo facciamo partendo dall'apertura del mattino di Napoli. Un mattino che mette in primo piano il piano sanità, a Campania il piano ospedali, chiudono i centri in ascita a rischio, via la rete unica per l'emergenza, meno posti letto per gli acuti, più per le lungodegenze. Ecco cosa cambia nella sanità. Intanto continuano gli sbarchi dei migranti, arrivano altri 6 mila stop ai migranti. La proposta dell'Italia, l'Unione Europea, Bacchetta, Vienna, per renderlo aperto. In taglio alto invece c'è l'avvicinarsi a quello che è il referendum sulle trivelle. In programma domani referendum trivelle, scontro sul quorum. Domani il voto, Renzi non è quesito politico. Di Maio, se me lo chiede la rete, è pronto a candidarmi premier. Per lo sport, Beffa Iguain, tolta una sola giornata, ha colto in parte il ricorso, ma non è stato ascoltato l'arbitro Errati che aveva ammesso di aver sbagliato. L'attaccante tornerà contro la Roma, la società attacca, è mancato il coraggio di fare chiarezza, siamo delusi. Ancora avanti, in taglio basso, omicidio uva, assolti tutti gli agenti, nessun pestaggio di poliziotti e carabinieri, la famiglia maledetti. La Napoli Geniale di Elena Ferrante, una guida letteraria sui luoghi dei romanzi della misteriosa scrittrice. Questa era l'apertura del mattino di Napoli, restiamo sul mattino e andiamo a leggere ora la pagina dedicata a Salerno. Qui in primo piano l'inchiesta per quello che riguarda De Luca Junior, che porta i conti in procura, il crack dell'IFIL, il dossier di Piero ai magistrati, ho pagato io tutti i viaggi in Lussemburgo. Il primo genito del governatore, 90 minuti di faccia a faccia con il PM, è indagato per bancarotta fraudolenta. Metro del mare, il pasticcio dei fondali troppo bassi, lo approfondiremo poi più tardi. Poi ancora le altre notizie, scandalo tangenti al ruggi, così cambiano le liste d'attesa, soldi per accelerare gli interventi, il chirurgo di Pisa resta ai domiciliari, il capodipartimento torna in corsia. La rivoluzione ai tech dopo l'arresto del primario brigante. L'inchiesta Fer, ginecologia, blitz della finanza all'ospedale di Sapri. Poi ancora c'è la fotonotizia, salernitana caccia al bis a Vercelli. Menichini lancia Ogier, trequartista. Questa era l'apertura del mattino di Napoli. Andiamo avanti, il mattino cambiamo quotidiano e andiamo su Cronache del Salernitano. Una cronache che apre con il furto al Time City. Presi i due banditi, si tratta di un 44enne e di un 18enne, entrambi residenti a Salerno incastrati dai sistemi di videosorveglianza del comune ubicati sul lungomare. Avevano portato via 15 mila euro per poi dileguarsi per il centro storico. La scomparsa di Pina Boccicavallo. Ciao Pina, grazie per quello che ci hai dato. I funerali questa mattina alle 11 alla chiesa di San Domenico. Poi ancora andiamo avanti e andiamo a leggere le altre notizie. Nocera, stangata per il clan greco. A 16 anni al boss Vincenzo Olzombi, 15 anni a Daniele Biagio. Castellammare, il PD non sa scegliere il candidato migliore. A torre annunziata, Irma Testa, primo pugile donna alle Olimpiadi. Ancora Salernitana, grande tensione a Vercelli. Si gioca una fetta della salvezza. Poi ancora c'è il caso Ruggi, di esame reintegra, saponiero. Questa era l'apertura di cronache del Salernitano. Andiamo avanti e ora apriamo invece la città di Salerno che mette in primo piano la sanità. Aborti illegali, primario indagato, inchiesta Sapri, nei guai torsiello e la caposala spunta il peculato. Intanto a Ruggi, saponiero torna il reparto, niente sconti. Invece per Liberti, la regione, la fonderia Pisano, ora si trasferisca o sarà penalizzato. Poi ancora criminalità, presi i rapinatori della sala slot, uno a 18 anni. Ancora la fotonotizia per la produzione turistica. Arriva l'app gratuita per scoprire i movimenti. Arriva un'app per offrire la guida gratuita per smartphone e tablet alla scoperta dei monumenti di Salerno. La realizzata la Salerno Convention Bureau in collaborazione con la piattaforma Easy Travel in occasione dei suoi primi dieci anni di vita. C'è spazio anche per lo sport. La salernitana cerca il bis a Vercelli in un match decisivo per la salvezza dei Granati. In taglio alto però c'è spazio anche per la politica, per il Movimento 5 Slade che è snobbato l'assalto di agosto. Il suo competitor Provenza inopportuno, Pisano, la lista non si farà. Questa era l'apertura della città di Salerno. Andiamo avanti e iniziamo un po' a parlare di sanità. Sanità che il nuovo piano ospedaliero se ne parla tantissimo. Ce ne parla un po' anche il mattino quest'oggi. Ospedali pronto il piano rete unica dell'emergenza. Campania meno posti letto per gli acuti più per le lungodegenze. Rafforzata, Ischia, Presidio e Procida chiude il punto nascita di Capri. Nell'area nord, Pozzuoli si affrotteranno gli Ixus e problemi cardiologici. Liabilitazione invece a fratta maggiore. San Felice a Cancello invece diventa punto di riferimento per la diagnosi sul cancro. Nel Cilento invece è confermato il pronto soccorso di Oliveto Citra, cure palliative a Vallo della Lucania. potenziato a Salerno nel centro tra pianti del Ruggi e psichiatria a mercato San Severino. Sempre sulla questione sanità in dettaglio nella mappa vediamo come e cosa cambia dal punto di vista anche dei posti letto con tutto il grafico che ci viene proposto dal mattino. Le strutture di Napoli, dice il mattino, il Santo Bono cresce di 100 posti, azzerati i 95 letti dell'annunziata, rafforzati Cardarelli, Pascale e San, tagli a Cotugno e a Scalesi. Questa è un po' in sintesi quella che riguarda il nuovo piano ospedaliero. vediamo come si è divisa l'area della Campania in ben sei macro-arie e qui un po' la situazione dei numeri. Questo è per quanto riguarda il piano ospedaliero, ma ieri si è parlato anche del nuovo sistema di appalti. Appalti arriva il via libero dal governo ad un nuovo codice del Rio, la rivoluzione della normalità, lotta alla corruzione, il ruolo decisivo avrà l'ANAC di Cantone. Semplificazione e trasparenza avanti, il nuovo codice degli appalti da forma al programma di governo diventa il simbolo della lotta alla corruzione, attribuendo all'autorità guidata da Raffaele Cantone un ruolo da protagonista per il suo funzionamento. l'obiettivo è sbloccare i tanti lavori fermi da troppo tempo in Italia, annuncia il Premier. Quindi riavviare le opere è una follia, 14 anni in media per i lavori pubblici. Vedremo però se questo nuovo sistema garantirà effettivamente un cambio definitivo in quello che dovrebbe essere il nuovo codice per gli appalti pubblici. Questa era un'altra notizia importante del giorno. Noi con questa pagina del mattino chiudiamo la nostra prima parte della rassegna stampa. Ci vediamo dopo la pubblicità per la seconda parte. Seconda parte della rassegna stampa di questo sabato 16 aprile. Cominciamo a leggere, o meglio, riprendiamo a leggere le pagine interne dei quotidiani, oggi ne dicono, lo facciamo partendo dalla città di Salerno e da quella che è la sanità. I problemi legati all'ospedale di Sapri, aborti illegali e peculato, primario indagato a Sapri. Torsiello è accusato di certificazioni falsi per le interruzioni di gravidanza, si indaga anche su interventi eseguiti a nero senza versamenti all'ASL. Questa è l'accusa. Sotto inchiesta anche la caposala di ginecologia avrebbe aiutato il medico ad incassare denaro per gli interventi. Intanto, per quanto riguarda le liste d'attesa, Cantone, Blinda, le liste d'attesa, operativi da ieri, nuovi limiti all'accesso al sistema informatico, questo è per quanto riguarda il Ruggi. Ruggi, che è sempre al centro dello scandalo Mazzette, Saponiero torna in reparto, non potrà dirigere il diappartimento, ma eserciterà le funzioni di medico. Nessuno sconto al neurochirurgo Liberti. Il GIP ha confermato gli arresti domiciliari. Ora le misure cautelari vanno al vaglio del riesame. Anche la Iannicelli chiede la revoca degli arresti. Intanto, la Corte dei Conti è pronta a chiedere i danni erariali. Infatti, sono stati acquisiti dalla Corte dei Conti gli atti dell'inchiesta penale sul primario obbligante e il presunto cito di Mazzette per gli interventi chirurgici. La magistratura contabile potrebbe chiedere il risaccimento del danno erariale per l'uso a fini private di sale e operatorie pubbliche senza il ricorso alla procedura in Tramoenia che prevede versamenti all'ospedale. Questa è la situazione per quanto riguarda la sanità campana, ma domani c'è anche spazio per quello che sarà il referendum sulle trivelle. Domani questo referendum, ultimi appelli, la battaglia del quorum. Ieri sera a mezzanotte si è chiusa la campagna elettorale. La consultazione è valida se si raggiunge il 50% più uno degli aventi diritto. Domani si deciderà il futuro delle concessioni alle estrazioni. Questa è la situazione, un crollo dei votanti, una gruva sempre più decrescente. Se si dovesse disegnare la partecipazione degli elettori al referendum si noterebbe che questi tendono ad essere sempre meno a partecipare a questo tipo di votazioni. Ora, quando si vota, come si vota, tutto scritto in questo grafico, si vota domani dalle 7 alle 23, basta un documento di identità e altessere elettorale. al voto 8.000 comuni e ben 61.563 sezioni. Il quesito tecnico prevede sostanzialmente l'abrogazione dell'articolo 6 del comma 17, terzo periodo del decreto legislativo del 3 aprile del 2006, numero 152, norme in materia ambientale. Se vince il sì, una volta terminate le concessioni sui giacimenti, questi non potranno essere più sfruttati. Se vince il no, le estrazioni continueranno fino a quando gli idrocarburi non saranno esauriti. A votare saranno circa 46 mila, sono gli elettori, sono circa 46 milioni e 887 mila, quindi basterà la metà più uno. Un referendum, però, che ricordiamo, è importante anche per altri ordini di ragione. Queste sono un po' le informazioni che bisogna sapere sul referendum in programma domani, dove anche qui si registra, da un lato, il partito degli assenzionisti, con le quali dicono che appunto non bisogna andare a votare, perché tutto sommato non incide in modo forte questo referendum, e altri invece che sostengono che il voto va esercitato ed anche in un certo modo. Staremo a vedere come andrà questo referendum, che sarà appunto il programma domani, gli spogli inizieranno subito dopo la chiusura dei seggi. Cambiamo l'argomento, parliamo di cronaca locale, andiamo su cronache del Salernitano, nella pagina dedicata al Cilento e Vallo di Diano, andiamo in particolare a Polla, giallo sulla cittadina scompare dal sito Città del Libro, una semplice dimenticanza per una cittadina che si fregge del titolo, oppure ci sono altre ragioni, questo ancora non è dato sapere. A Sapri invece prima un malore, poi la caduta, muore in barca un 73enne pescatore, Vincenzo Grasso aveva lasciato il porto per raccarsi a pesca, come faceva ogni mattina, non vedendolo fare ritorno, i familiari hanno allertato la guardia costiera, il pescatore è stato ritrovato senza vita a bordo del San Biagio. Quando sono intervenute le forze dell'ordine per il 73enne, non c'era nulla da fare. Capaccio, rifiuti abbandonati per strada, SOS dell'assessore, poi ancora ad Agropoli, un colpo di sonno ha mandato fuori strada una giovane donna in dolce attesa, l'impatto si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì, a lungomare San Marco, nessun ferito. Sempre ad Agropoli, cavalli liberi sulle strade, nuovo sequestro dei carabinieri, ora trasferiti a Caserta, erano già sottoposti a sequestro qualche tempo fa, un'operazione dei militari con addetti della ASL. Lasciamo le pagine di croniche del Salernitano per andare ancora sulla città di Salerno e leggere quanto ci viene riservato nella parte dedicata al Cilento Vallo di Diano e Alburni. In primo piano l'incidente di Sapri, tragico incidente in parca, perde la vita anziano pescatore. Nascondevano droga in auto e in casa, due giovani nei guai a Ceraso, poi ancora sala consiglina, raid vandalico alla villa comunale, scritte con lo spray, porte di verte e vetri rotti, rabbia e denuncia. Ogli astro Cilento si cambia la paladina antistato, Arianna sfida il sindaco Apolito, su Facebook la battaglia contro il progetto Vallo. Il carcere apre al teatro, detenuti attori con Totò, mentre sala il padrono trasloca nella chiesa di Sant'Antonio. Questi sono gli argomenti principali per quanto riguarda la cronaca locale, ora leggiamo la pagina sportiva, lo facciamo partendo dal Napoli. Solo una giornata di sconto per Iguain, ieri il verdetto mini sconto per Iguain, rientrerà nella gara contro la Roma. Ok? L'indulto è arrivato, poca roba, almeno Gonzalo Iguain potrà giocare la gara dell'Olimpico contro la Roma il 25 aprile prossimo, tuttavia al Napoli non è andata giù la situazione legata all'arbitro Irradi che non è stato addirittura ascoltato e il quale però l'arbitro aveva ammesso nei giorni scorsi di aver sbagliato nella circostanza, quindi una giustizia fatta solo a metà. Per la compagine partenopea un Napoli che esprime tutta la sua negatività di fronte a questa sendenza e dice profondamente delusi la nota della società partenopea persa un'occasione per dare credibilità all'intero sistema è mancato il coraggio di fare chiarezza e restituire giustizia a club e giocatori. Intanto la presenza di Renzi a Salerno fa anticipare la gara contro il Livorno al domenica 24 aprile e proprio sulla Salernitana però in attesa di questo 24 aprile e del match contro il Livorno è in attesa quest'oggi dalla difficile sfida in casa contro il Lapro Vercelli. La Salernitana ha una sfida a salvezza non fermarti sul più bello Menichini a Vercelli si aspetta una prova di coraggio e si affida al tandem Coda Donnarumma per la seconda vittoria di fila. Alle 15 al Piola i ragazzi di Menichini non potranno fallire l'appuntamento con i tre punti intanto ieri nell'anticipo lo Spezia ha frenato la capolista Crotone mentre il Pescara è stato super vincendo a Cesena con un gol di Lapadula. Per quanto riguarda la Salernitana nell'inizio di Asiria faccia da titolare ma non so quanto potrò durare Foscadini nasconde il modulo provata anche la difesa a 4. Per quanto riguarda sempre la Salernitana oggi può bastare il pari ma serve più equilibrio parla Gigi Cagni sulla pacchina granata nel 99-2000 analizza il finale di stagione conosco il valore di Moro e Bovo ma ancora non c'è stata la svolta definitiva. Queste le parole dell'ex allenatore della Salernitana un'altra situazione ci credo i tifosi ci credono lo fanno anche con uno striscione ci credevo ci crederò e ci crederò sempre lo vediamo qua e all'incitamento che i tifosi granata riservano alla squadra la prima della partenza per Vercelli dove oggi si giocherà molto del futuro e della permanenza in categoria della compagine di padron Lotito e Mezzaroma noi con lo sport e con la Salernitana chiudiamo questa edizione della rassegna stampa vi ricordo che news e approfondimenti sono disponibili sul nostro sito web 1tvweb.it mentre l'appuntamento con l'informazione torna alle 13.45 con l'edizione pomeridiana del telegiornale a me non resta altro che ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi un buon sabato e un buon proseguimento di giornata